indicare quale formula rappresenta meglio l'idrocarburo ottano. Dal nome comprendete che si tratta di un alcano, l'ottano ha 8 atomi di carbonio, dalla formula generale degli alcani CnH2n2 comprendete che l'ottano deve avere un numero di atomi di carbonio C pari a 8 e un numero di atomi di idrogeno pari al doppio degli atomi di carbonio aumentato di un'unità, quindi pari a 18. La formula bruta dell'ottano sarà dunque C8H18. Ecco, noi dobbiamo andare a trovare tra queste quattro opzioni quella molecola, quella formula, che contiene 8 atomi di carbonio e 18 atomi di idrogeno, tra le varie opzioni date. Allora, andiamo a guardare la prima. La prima è sicuramente da scartare perché ha due atomi di carbonio, quindi non c'è bisogno che ragioniamo oltre e continuiamo. Continuiamo. Andiamo a guardare la seconda formula. Abbiamo un atomo di carbonio, poi qui abbiamo 6 gruppi CH2, questo significa che 6 per 1 è 6, abbiamo 6 atomi di carbonio, più 1 che è questo 7 e più l'ultimo 8. Qui abbiamo 8 atomi di carbonio. Ecco, potrebbe essere la nostra struttura. Allora, vediamo se abbiamo 18 atomi di idrogeno. Allora, qui abbiamo 3 atomi di idrogeno legati al primo atomo di carbonio, poi 6 per 2 è 12 atomi di idrogeno e i primi 3 è 15. E l'ultimo atomo di carbonio è legato ad altri 3 atomi di idrogeno, quindi 15 più 3 è 18. Allora, questa è la formula corretta, perché appunto è formata da ben 8 atomi di, rappresenta 8 atomi di carbonio e 18 atomi di idrogeno. Questa è la formula semplificata, con cui una delle formule semplificate, con cui possiamo andare ad indicare il nostro ottano. Naturalmente la terza è scorretta, perché è il nostro idrocarburo più semplice, il metano, di formula CH4. E la quarta opzione è pure scorretta, perché abbiamo un atomo di carbonio, 3 per 2, 3 per 1 è 3, quindi 3, 1, 4 è l'ultimo atomo di carbonio, 5 atomi di carbonio. Quindi la quarta formula è non la formula dell'ottano, ma la formula del pentano, perché abbiamo 5 atomi di carbonio. E se li andate a contare, abbiamo ben 12 atomi di carbonio, 3 più 3 per 2, 6, quindi 6 e 3, 9, e gli ultimi 3, 12. Quindi la formula bruta, C5H12, è la formula del pentano, da penta, 5 atomi di carbonio. Allora, questa altra opzione è da scartare. La risposta corretta è questa, la seconda. Questa è la formula che sta ad indicare il nostro idrocarburo ottano. Quindi questo è un modo, una logica con cui voi, se avete più opzioni, potete andare a comprendere qual è la formula esatta che meglio identifica il nostro idrocarburo. Grazie.